Per il calcio quella di domani sarà una giornata fondamentale con l'incontro tra il ministro per lo sport Spadafora ed il presidente federale Gravina. Validazione del protocollo per le partite e date della ripresa del campionato di Serie A sono gli argomenti principali che poi si rifletteranno sulla data successiva del ritorno in campo della Serie B e della Serie C. La cadetteria ha già più volte espresso la volontà di tornare in campo, ribadita anche nell'ultimo direttivo, finire la stagione giocando tutte le partite compresi playoff e playout come da format. Resta più delicata la vicenda in Lega Pro, l'assemblea si era espressa per il non ritorno in campo ma l'ultimo Consiglio federale ha ribadito che anche la Serie C dovrà giocare. Una doccia gelata per i club, per il presidente Ghirelli ma anche per i medici sociali che a gran voce si sono fatti sentire lamentando l'impossibilità di assecondare le linee guida dei protocolli. Il problema è come. Il direttivo di ieri ha stabilito che la Lega Pro porterà al vaglio del Consiglio federale una soluzione soft compromesso tra dare ancora la possibilità al campo di emettere verdetti ma limitando in maniera considerevole le partite. Secondo il direttivo le capoliste dei tre gironi vanno promosse in B, Monza, Vicenza e Regina, mentre la quarta promossa sarà stabilita tramite playoff disputati da chi deciderà di aderire in via facoltativa a questi spareggi. Circa la parte bassa della classifica il direttivo ha proposto la retrocessione delle ultime di ciascun girone Gozzano, Rimini e Rieti e le retrocessioni di penultima e terzultima del girone C, Rende e Bisceglie, i cui distacchi sono superiori a 8 punti rispetto a Picerno e Sicula Leonzio. Nei gironi A e B si disputerebbero i playout, proposte sulle quali dovrà pronunciarsi il Consiglio federale che dovrebbe riunirsi il prossimo 3 giugno. In quel momento si prenderanno decisioni anche per i campionati della Lega Nazionale Direttanti che sono stati sospesi definitivamente con la proposta del direttivo che è quella, in particolare in Serie D, di promuovere le prime in classifica e di far retrocedere le ultime quattro. Proposta che la Federcalcio dovrà decidere se accettare, ratificandola o meno. Una proposta che però ha messo sulle piedi di guerra le oltre 30 società che rischiano la retrocessione e che si sono messe insieme nel gruppo Serie D Salviamoci, coordinato dal presidente del Grumentum, Petraglia. Hanno aderito anche i due club abruzzesi, Avezzano e Chieti, che già ai nostri microfoni la scorsa settimana per bocca dei due presidenti, Paris e Mergiotti, avevano confermato che avrebbero percorso tutte le strade possibili per salvaguardare la categoria ed evitare la retrocessione in eccellenza. Secondo il neonato gruppo la proposta del direttivo della LND è illegittima e irricevibile e Federcalcio e Lega Nazionale Direttanti sono state diffidate dal procedere alle retrocessioni a seguito delle quali saranno intraprese azioni giudiziarie a tutela dei violati diritti sportivi e patrimoniali. Manca la razio sportiva e giuridica di un simile provvedimento, hanno scritto le società in un documento congiunto. La soluzione esiste ed è stata già sperimentata in passato. Basterebbe, concludono, bloccare le retrocessioni nella stagione corrente per causa di forza maggiore, proponendo in via transitoria nella stagione 2020-2021 un aumento delle squadre in Serie D con un riequilibrio nel campionato successivo prevedendo nel caso un numero maggiore di retrocessioni. Grazie a tutti!